Siamo qui con l'amico Paolo ad Andermatt e finalmente stamattina, dopo tre giorni, si parte in discesa. Fra un freddo pazzesco, siamo tutte bardate e questa mattina al nostro sveglio c'erano otto gradi. Arriva la Svizzera! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Noi siamo arrivati a Basilea e il quaderno è sempre con noi e si sta arricchendo di tantissime frasi. Continuate a mandarci le vostre, rispondete alla domanda cosa vuol dire per voi essere una donna coraggiosa oggi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!